Tutto quello che c'è da sapere sulla pianta di Anturium in 90 secondi! Una bellissima pianta originaria dell'America centrale! Un'antica leggenda greca descrive il fiore dell'Anturium come la freccia di Cupido perché la forma del fiore ricorda un cuore mentre il pistillo centrale ricorda la freccia scagliata. Regalare questa pianta è simbolo di affetto e auguri di buon auspicio! Ehi, se non l'hai ancora fatto, lascia un like e condividi questo video! Come mantenerla? Utilizziamo acqua dolce ma non fredda! In estate la bagniamo ogni 3 giorni, in inverno ogni 6 giorni! Ha bisogno di un ambiente caldo e umido! Mi raccomando, buona la luce diretta del sole e soprattutto dietro la finestra! Nebulizzate con l'acqua le foglie della pianta di Anturium e mentre che l'avete nebulizzata, prendete un panno umido e andate a pulire la foglia dall'interno verso l'esterno. Questo problema è dovuto da sbalzi di temperatura e correnti d'aria. Fate molta attenzione a non bagnarla troppo perché il stagno d'acqua può creare l'arrivo di malattie, infezioni e afidi. Travasatela ogni 2 anni circa e ricordatevi di usare come fondo l'argilla espansa per un buon drenaggio. Scrivete qui sotto nei commenti quale pianta volete scoprire. Paci!